Tutti ragazzi da Corazzo 9 bentornati sul mio canale per questa nuovissima sfida sulla Road to Level 99 Rieccoci sempre al preso di Firewheel Stavolta giochiamo contro il vecchio ostile, ok? Non il vecchio ostile, eh? Il vecchio ostile Che se no cambia, una lettera cambia quel po' Va bene ragazzi, mi raccomando tanti pollicini in su per questa nuovissima parte della Road to Level 99 Ragionami 100 mi piace per il prossimo episodio, mi raccomando Ok, la squadra è sempre quella, è fantastici e unici E siamo contro questo vecchio ostile, è un po' particolare mi sembra come squadra Perché la telecamera si muove tutta, ok? Perché lo fa? Passaggio schifoso che ho fatto Intanto tolgo un po' di zoom così, ok? Doveva darci un po' meglio, spero Ok, andiamo senza paura Allora, opterei la stessa strategia della scorsa volta, ovvero mettere su dello spirito real a Victor Strategia che l'altra volta ha pagato, quindi spero Faccia bene anche stavolta Sono dei piratisti qua Nulla da dire Miximax, allora andiamo sempre con Victor Daie Daie Uh, ci siamo Victor, 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 Victor Mannaggia, ho tirato perché se no mi colpivano loro Dovrei farcela lo stesso, in teoria Perché in teoria il portiere non è molto Cioè, non è miximax, non so cosa è il portiere Vabbè, un costo 130, no, il portiere c'è lo spirito guerriero, sì Senza miximax però, spero E ce la facciamo di poco, ma ce la facciamo E c'è il galla, il galla per il Raymond con Victor Blade Che gol, ragazzi Splendo, i primi minuti Ci porta Sabio vicino alla S Del super Della Stravincita Andiamo ragazzi Adesso dobbiamo fare un altro gol con Victor Per essere tranquilli Quindi Mannaggia, spirito guerriero Noi non facciamo nulla per ora Facciamo risparmiare i nostri Allora Io potrei andare di armatura C'è anche un po' uno spreco Però almeno Sconfiggo questo tizio qua E anche l'armatura fatta con così tante energie ancora Mi dura un bel po', c'è un bel po' Questa azione spero anche la prossima Forse potrei fare addirittura due gol con Victor, ragazzi Quindi tripletta, forse Vedremo Tanto, ragazzi Zero lui A zero Wow Ah, dimmi che lui ha preso tutti i tre No, solo due, purtroppo Vi faccio un'altra strada Vado con il doppio tocco Che lo conosciamo Quindi non serve rivederlo Andiamo qua, ragazzi A affrontare anche gli ultimi due difensori Tac Doppio tocco Sempre quello E andiamo, 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 andiamo Tiro All'ultimo Perfettissimo così E andiamo Col tornado di fuoco di D, ragazzi Eccolo qua Sempre in coppia con Zanark Della sua forma Evoluta Il tornado di fuoco, intendo Vediamo E c'è il gol Il gol per la Raymond Con Victor Blade In collaborazione con Zanark Grande Victor Che balla Grandissimo Ma quando ragazzi Superate la serie Con tanti bei pollicioni Ricordo 100 like E porto il prossimo episodio Quindi tutto Nelle vostre mani E non andiamo ancora con Victor Come dicevo prima C'è ancora tutto lo spazio Per un'altra azione E per un altro gol Del nostro carissimo Victor Ho avuto un sacco di volte Victor Però se lo metto Lui attacca Noi andiamo con la nebbia Involgente Dovremmo farcela Senza problemi E così sarà Infatti Andiamo 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 Perfetto Non è normale Vabbè Allora Andiamo proprio sotto Se non la prenderemo mai Però ora si che ci attacchiamo Cioè capite Non dovete andare proprio sul giocatore Perché se no Vi farà la block Eccetera Però se dopo Contrastate subito Ovviamente Avrete la meglio Se avete un giocatore come Victor E andiamo E andiamo Perfetto Siamo davanti al portiere Tornado di fuoco di D Ancora una volta Per la tripletta Probabilmente Di Victor 800 Vediamo contro quanto Uh l'armatura Eh sarà più dura allora Ho fatto anche la rima Dai Gran stella V3 Non la para E c'è il gol Il gol per la rima con Victor Tripletta Annunciata Voluta Cercata E trovata Grandissimi In canale Lo sto Victor Adesso potrei Fare un'azione Che comincia Con Victor Dato che c'è l'armatura lì E continua poi Con Zanark Questa è la mia idea Infatti Metto subito Il Miximax A Zanark Ok Fai quello che vuoi Uh tira Tira ragazzi Attenzione Andiamo con la mano Insuperabile Però ci servono Un po' di blocchi Perché qua Abbiamo Contro un'armatura E un Miximax Quindi Ario Mette di mezzo Non può Eh abbiamo solo L'impasto di Gold Ragazzi Abbiamo solamente L'impasto di Gold Che ci può aiutare Purtroppo Avendo una difesa 3 Siamo così Tira un debolito A 402 Non so se ce la faccio Ragazzi 277 Aia No eh Sì 376 Grande JP Ho rischiato tantissimo Perché ovviamente Se subisco un gol Non posso avere la S Quindi mi dispiacerebbe molto Attenzione però A sto punto Non so anch'io Se attivare l'armatura No L'attivo a Ryoma Ryoma che era lì Se non sbaglio Sì Così andiamo con Ryoma Bella combattuta Questa partita Ragazzi A parte la tripletta Ma Sono forti Niente a dire Ok Grande Summona Musashi E andiamo Con Un Attacco Dai Attacchiamo Questa giocatrice Ah C'è lì per mossa Lei Attenzione Mi sa che Vince lei E così è Uh Dai 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 Passo di gold Ah È lì per mossa Ragazzi Io attivo Lo scritto Vorrei Ero Dimmi che ce la posso fare Sì Perché ne ho due Perfetto Di JP E il Miximax Di JP Mi serve ragazzi Mi serve in questo momento Cosa ho fatto Ho schiacciato però io ragazzi Giungo la profonda Non ce la fa Ce li per mossa Miximax Attivato in tempo ragazzi Di JP Che ci servirà Tantissimo Eccolo qua Attaccano bene Hanno una difesa un po' scadente Come abbiamo visto Però allora Attacco è buono Perfetto Abbiamo JP adesso Che ha una roccia Sfiancato Victor Intanto Ok Io faccio Madre del Colosso Guardate come sono messo Non puoi mai Prendermela Quindi vai con una presa Ricordo Aia Questo non l'avevo calcolato Aia Ah È un tiro normale Allora dovrei farcela Benissimo ragazzi Eccoci qua Ottima presa Andiamo 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 Spazziamola via Adesso Adesso dobbiamo dare Da Finalmente Sfianca anche il suo Intanto Da Zanark Perfetto No ragazzi L'ho schiacciato L'ho schiacciato Si fa proprio l'effetto Si sente Vabbè Comunque Ci fa spercare un po' di PT Ma fa nulla Salto Esplosivo E dai Ottimo Andiamo 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 A Victor E poi scatta ancora Perfetto Zanark Quello che volevo Ora Spirito Vorrei Ah No non due Perfetto Perfetto Perché Victor È sfiancato Perfetto Stavo già dicendo Mannaggia No c'è tre Invece no Perfetto Così abbiamo JP Rioma E adesso Zanark Ottimo Ecco qua E tira Ok Tanto si è anche L'attaccante Lì c'è D'era Pista E tiriamoci Perfetto Perfettissimo Spirito Warriero Miximax Per Zanark Che userà La peggione purpuria 829 Con l'extra Ottimo E puffede Ottimissimo Vediamo il portiere Gran Stella Ancora Aia E ce la facciamo C'è il gol Il gol Per Zanark Grande Zanark Grandissimo Zanark Così si fa Ragazzi Per il 4 A 0 Ora potremmo mettere L'armatura E poi Fare 5 a 0 Magari poi Tagliarvi il secondo tempo Perché poi è inutile Ovviamente l'obiettivo nostro È quello di Vincere con S E l'obiettivo ancora più importante È quello di portare I giocatori A livello 99 Non ha senso Giocare un altro tempo Ragazzi Dato che sempre sono Giocate E so che vi piace Andermi a giocare Però Avete già 10 minuti di video Quindi penso sia abbastanza Io attivo l'armatura Vediamo se Tutti questi discorsi Sono maglino Andiamo a vedere Quindi se riusciamo a fare Questo quinto gol E entro il primo tempo Per così Saltarvi il secondo Colpo critico 1547 Mamma quanto sei forte Amico mio Zanark Eccolo qua Io Sono Invincibile Dai che ce lo puoi fare Zanark Dai dai Più di mille Più di mille 954 Va benissimo Con l'extra Va bene Va bene E questo come la pare Amico mio Gran stella Un gran botto di culo Ci vorrebbe Mi sa Ma Non ce la fai E c'è il gol Il gol di Zanark Il nostro bomber Sto pensando Il cognome di Zanark Ma non mi viene in mente Vabbè Comunque Tripletta di Victor Doppietta di Zanark Gli attaccanti Si sono scatenati Ragazzi Qualcosa di incredibile Ok Proviamo Senza fare la nevia Perché Adesso Stiamo andando Alla fine del primo tempo Che è inutile Ma cosa ha fatto Victor Cosa ha fatto Victor Ok ragazzi Finisce il primo tempo Siamo già sul 5-0 Quindi probabilmente Taglierò Anzi taglierò adesso Il secondo tempo Dopo la registrazione E dipenderemo magari Gli ultimi secondi Di partita Bene ragazzi Siamo Al ventiquattresimo Circa E volevo farvi vedere Appunto Il tiro centrale Di Il nostro Carissimo Oddio Mi viene a mettere il nome Mi è sfuggito il nome Per un attimo Comunque Volevo fare Adere che L'ho messo all'armatura E che sta andando alla grande Gol anche per lui Aveva già fatto Ragazzi Un'altra doppietta Victor Nel secondo tempo Quindi Victor 4-5 2-2 Zanark E uno Adesso Anche a Rioma Rioma Ecco giusto Rioma Anche apparso il nome Quindi ragazzi Partitona Molto facile Ma anche molto bella Specialmente nel primo tempo Il secondo tempo Siamo un po' addormentata Nonostante i due gol di Victor Che ho fatto Molto facilmente Devo dire È stata davvero Una bella bella partita E allora ragazzi Andiamo a concluderla Adesso Io mi conto gli 8 gol Quindi farò un po' di Melina Quindi la butto un po' di avanti Così Secondo di far passare un po' il tempo Regalo il pallone L'avversario praticamente Tiki-taka Mamma mia che tiki-taka ragazzi Vabbè allora Ragazzi vi invito Forse ultima azione No Vabbè Di lasciare tantissimi Pollicione in su Ricorda 100 mi piace Ci sarà il prossimo episodio Quindi mi prendo tutti da voi Grandissimo Zanar Che intanto Può provare Un pallonetto Come ai vecchi tempi In termini di Pimina Zuma Che fra poco Rivedremo Non vi preoccupate Con la maratona di Zuma Uuuuh Ah è andato Un altro portiere Fa la barriera magnetica Che non va Un pallonetto Funziona Sulla barriera magnetica La potenza La potenza La potenza di Zanar Che ragazzi Non vi C'è no Non vi ho fatto perdere Questa chicca finale Sono contento di aver registrato Grandissimi ragazzi Quindi Se non avevate ancora Messo like Non so perché Ma mettetelo comunque Se non vi eravate ancora iscritti Iscrivetevi Se vi va Quando vi vedete Vi lascio anche in descrizione I link della pagina facebook E della fanpage E' gestito dagli iscritti Sempre su facebook Quindi mi raccomando Pollicione su Commentate Se volete condividete Iscrivetevi Pagina facebook Fanpage Vediamo un po' I livelli E poi ci salutiamo Allora Vediamo un po' Se c'è qualcosa di interessante Beh Direi di sì Perché JP È al 99 Ragazzi Un altro al 99 Sono contentissimo Il prossimo Più vicino a Riccardo Il mio amato Riccardo Al 98 Ebbene Ragazzi Questa serie Sta giugendo al termine Ma Dovete spoliciare Se vedete il prossimo episodio Mi raccomando Che c'è ancora tanta Stata da fare Ciao ciao